Più che un consiglio comunale, ieri sera è andato in atto un regolamento di conti, di cui si sono chiarite tante cose. Il consiglio, suddiviso su sei punti all'ordine del giorno, ha avuto il suo culmine sulla mozione di destituzione dalla carica assessoriale del vicesintaco Grazia Gian Musso e dell'assessore Fabio Caracausi. Con dieci voti a favore e contro nove, è stata approvata la richiesta di destituzione dell'opposizione, lanciata dal consigliere Gianluca Bruzzaniti e firmata dai capigruppo. Adesso la decisione spetterebbe il sindaco Roberto Gambino, che ha già però sottolineato che la giunta non si cambia. Nel consiglio, che si è potratto sino a notte fonda, si respirava già un clima da campagna elettorale, con le nuove elezioni che avverranno tra 14 mesi, con nervi tesi e ripicche personali. Ne abbiamo parlato con il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino. Ieri c'è stato un confronto in aula su questo tema. Ovviamente l'opposizione in questo momento ha i numeri e ha approvato questa sua mozione. è chiaro che io ho espresso la massima fiducia nei confronti non solo dei miei assessori, ma dell'intera giunta e dell'intero gruppo consigliare. Noi in questo momento ci siamo molto compattati, anche con il gruppo consigliare, e devo dire che in questo momento si sta lavorando molto, ma molto bene, proprio per il bene della città. Poi è chiaro, chi ha aperto la sua campagna elettorale ha tutto l'interesse a creare dei momenti anche di tensione, anche per avere la evidenza sui social, sui media, ed è legittimo per carità, si cominciano a cercare degli spazi. Ma ricordiamoci che sarà così magari per un anno intero, per cui questo potrà anche succedere. Noi andiamo avanti per la nostra strada.